Parte dal Qatar e passa per il Luxemburgo l'acquisizione da 730 milioni di euro del settore private banking di Dexia, il gruppo bancario franco-belga in crisi. La famiglia reale del Qatar, attraverso la finanziaria Precision Capital, acquisterà il 90% di Banca Internationale Luxemburg, cui fa capo Dexia. Secondo gli analisti il prezzo pagato è basso rispetto a un valore stimato di un miliardo di euro.